Un altro incontro invece, uno nel quartiere Isola, relativamente al piano pensato appositamente e sempre sul conto delle notazioni, dal punto di vista e dal punto di vista. Questo incontro è organizzato dal Costituto della Nove, io sono Presidente, ci sono alcuni consiglieri fra di voi, mi ringrazio la presenza l'assessore Marana e l'assessore Granelli, si stanno occupando ormai da quanto tempo in questa problematica. La serata di oggi si portiamo a questo modo, adesso avremmo modo di vedere un video, diciamo dalle prime immagini si capisce di cosa si tratta, c'è stata un'ispezione, l'assessore, i tecnici e infine avremmo modo di vedere lo stato dell'arte rispetto a ciò che è sotto di noi, quindi il segreto sotto, che non si vede. E avremmo modo di vedere qual è la situazione, come molti voi sapranno, sono iniziati già da un po' di tempo delle opere di polizia e vi avremmo modo di vedere questi interventi. Poi ci soffermeremo in particolare in questo incontro, lo dico in particolare perché tratteremo in questa questione delle opere infrastrutturali, le cosiddette vasche di raffinazione che sono per cui è presista la realizzazione anche all'interno del conflitto di Milano, quindi si intervanno un po' nel merito di questi progetti, mentre come dicevo all'inizio, negli altri due conti si parlerà più del piano dell'emergenza, appunto nel caso di inondazione. E io voglio ringraziare con il Consiglio di Milano per la vostra presenza, ovviamente poi ci sarà la possibilità, come in tutti i conti, di intervenire e fare domande, di fare segnalazioni, di dare suggerimenti, credo che sia importante e noi ci siamo visti l'ultima volta qualche mese fa, sempre all'interno di questo obiettivo di Carrianna, a ridosso proprio di una seconda relazione che era quella che non vuole. Sono stati fatti altri passi, quindi oggi si parla appunto dei passi che sono stati fatti, dei progetti che sono stati messi in capo per evitare le risultazioni. Ricordo anche, ricordo anche la presenza del Presidente del Parco Nord, Giuseppe Manico, qui in questi mesi, in stazione comunale, la società ha lavorato e compito, ovviamente si è confrontato, visto che una delle basche, la versione di una delle basche è prevista all'interno di un'area del parco, siamo confrontati proprio per trovare una soluzione migliore per litigare le varie criticità che si potranno eventualmente incontrare in una cosa. Io termino, interperarmi con appunto l'assessore Granelli per illustrare il video e poi successivamente l'assessore Baranti, tecnici che ammette, è avviato per farlo in dettaglio delle questioni. Grazie. Grazie a tutti. e poi tutti i modi tecnici abbiamo fatto un'ispezione dove stanno facendo i lavori i lavori sono due poi eventualmente ho avuto i mercati che potrebbero fare e poi stanno andiamo a tirare intanto facciamo voce noi se va, vai ecco, dicevo ci sono questi lavori una, la pulizia del tratto combinato il tratto coperto da giornato fino a dove poi il servito in mezzo alla regioia va in questo punto e entra nella martesana vedete qui siamo sotto qui siamo nel tratto della martesana dove arriva il servito là dietro, dove noi siamo venuti arriva l'acqua del servito entra in martesana e poi vai giù qui ci sono lavori di pulizia in particolare in questo luogo nel centro e poi vedete in questa zona ci sono dei muri sia nella martesana che poi cosa nella in cui si entra come vedete noi camminiamo in questo luogo comunque dicevamo I lavori sono la propensia e il consolidamento con le stracce a me, come sempre, adesso vogliamo trovare il modo, le luci, intanto vi dico, noi cosa abbiamo visto? Ecco qua, abbiamo visto che c'è una superficie ampia, c'è uno strato di chiaia, di sabbia, di sassi grossi, non abbiamo trovato alco, motorini, lavatrici, eccetera, abbiamo trovato solo alcuni, soprattutto nella parte più in basso sotto Piazza Carbonari, alcuni accumuli delle curve appunto di Piazza Carbonari, questa è l'opera benedaria che abbiamo fatto, adesso si apre e poi scendiamo anche di qui, però sostanzialmente si riesce sempre a camminare diciamo dal Piazza Nuovo, per cui adesso cosa succede? Che con le uspe, delle uspe piccole che vengono cavate, si rimette bene a livello, si toglie dove ci sono alcuni accumuli, si porta a livello precedente degli anni 80, togliendo circa un 10-15% e quindi favorendo il deflusso. E poi ci saranno alcune opere invece di consolidamento della struttura, la graffa quando va dentro, la forza, come vedete, alleggiata, in alcuni casi si vede, si vede qui di ferro, della matigua, ci sono dei punti che li vengono sempre messi a posto. La parte appunto più problematica è quella di Piazza Cantolani, poi noi siamo usciti da qui, siamo rientrati in terzale Istria, dove c'è il tombino grosso l'apertura vicino da Passio Tram, lato dove c'è il distributore, qui siamo rientrati, e la condizione che gli è distribuito, comunque anche lì verranno fatti i lavori, poi siamo entrati anche in via Valcuba, dove stanno in questo momento proprio rompendo il cemento armato per creare, come avete visto, lo spazio, siamo entrati al tombino e anche lì abbiamo visto, ci sono alcuni detriti, ad esempio, nella curva dove poi gira in fondo. Quindi, questi lavori, sostanzialmente, la parte di esplorzazione aria è iniziata in questi giorni, perché abbiamo fatto un accordo con i giorni in arco, per cui l'acqua a monte risulta deviata con lo sformatore, quell'acqua che vedete qui, è quella che entra in prossimità in via Arnato dal depuratore di Bresto, Romano, Sergio Cilisello, eccetera. E poi l'acqua che vediamo. Quindi qui i tecnici di DMM spostano l'acqua, fanno il lavoro, tirano su una ghiaia in modo da pulire al massimo del gusto. Quindi le due cose, penso, importanti di questo superluogo è che, appunto, non abbiamo trovato dentro, quindi lo sgrigliatore fa bene il suo mestiere, per dire, cioè non abbiamo dentro eviti di questo tipo, e questi lavori ci permetteranno da qui a fine maggio di mettere a punto e avere, diciamo, un traccio combinato che fa bene il suo mestiere, che assorbe il più possibile l'acqua. Come abbiamo detto in altre occasioni, non possiamo togliere tutto, perché l'imbocco che avete visto qua sotto è di quella grandezza lì, quindi è quello che segna il livello di tutto l'interaccio, perché se lo facciamo, se lo facciamo di più, poi si crea lì l'acqua e quindi crea l'acqua. Questo è un po' il quadro, qui, se volete, possiamo mettere anche qua domande, possiamo far vedere, eccetera. Lo metteremo anche su il sito, eccetera, quindi potete guardarlo, anche con le foto e con il caso. Sì. 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 convinti può fornire la soluzione più rapida a un problema di risoluzione, cioè il progetto di vasca di organizzazione che è stato impostato da AIP. La vasca di Senago sta chiedendo la produzione ambientale strategica, quindi poi è stata legata e l'auspicio è che parla con i lavori che si tecno del 2015, l'assessore dei carrossi, ma anche le altre progettazioni di vasche stanno lavorando, perché oggi inizia la vasca di Senago. Ci tengo ad aggiungere altri passaggi che sono avvenuti in questo tempo. Intanto ci siamo occupati della progettazione delle vasche, ma ci siamo occupati del fatto che non bastano da sole le vasche di terminazione. Cioè le vasche di terminazione hanno senso sempre terminato a due tipi di intervento che finalmente sono ricostate. Il primo passaggio alle vasche di terminazione va affiancato un piano di utilizzi di attività di decorazione del film senso. E su questo tutte le autorità e le altre aziende che si occupano di acqua d'otto e fuori al gruppo vaccino del senso, stanno aggiornando i piani, stanno aggiornando i piani per migliorare l'attivazione del film senso. Secondo l'epito, le vasche di terminazione è solo un intervento da fuori a cavallo. Abbiamo preso un'azione così impattante, il merito più rapido per intervenire in pochi anni e fare le vasche di terminazione. Però le vasche di terminazione devono essere accompagnate da un piano che riduca le acque che buttiamo direttamente nel fiume nel Preve e nel Mediterraneo. Intanto il quotidiano ha provato una variazione del Preve e nel Mediterraneo proprio due settimane fa, con gli investimenti che facciamo noi nel nostro sistema idrico nei prossimi vent'anni, nel Mediterraneo, nel Mediterraneo, nel Mediterraneo, nel Mediterraneo, nel Mediterraneo, nel Mediterraneo, dove un pezzo importante consiste per ridurre l'acqua che noi cerchiamo immediatamente nel sistema in modo da ridurre un po' il contenuto di tanto della città di Mediterraneo, che ci ha fatto poco nel nostro evento, ma poco che mi parla, sul sistema di scariche e sul sistema fiume. La stessa cosa lo spichiamo e cerchiamo di fare in modo che avvenga l'oro di Milano, perché meno acqua gettiamo dentro e più riusciamo a avere una gestione non emergenziale, ma sistemica del problema dei momenti di tela. Anche perché l'obiettivo è che le vasche ci servano per meno mani possibili e che, in maniera già oggi, in realtà, anche in mano per il mio avvocato oggi, che è stato più tragico, per 11 mesi su 12 non ci sarebbero serviti con le vasche di realizzazione. L'obiettivo è che non ci servano solo in situazioni estremamente rare e con la che poi sarebbero messi con le migliori amortologici. Quindi, per far quello, abbiamo bisogno di un piano che accompagna dalla costruzione delle vasche il fatto che riduciamo progressivamente l'acqua che mettiamo nel senso. Terzo elemento sul cui abbiamo lavorato parecchio questo tempo, anche nella vasca del Barco Road, è il fatto che, soprattutto, se pensiamo che la strategia che le vasche ci servono per un periodo, speriamo bene, perché dopo riusciamo a ridurre la quantità d'acqua che mettiamo nel senso, allora dobbiamo progettare delle vasche che siano corretti con le funzioni di Barco dove spesso vengono costruite. Allora, anche la vasca è di Barco Road, esattamente come l'obiettivo sull'altro sistema di vasche, la vasca di Barco Road è stata costruita con una condivisione progettuale con i tecnici del Barco Road, per cercare di trovare un peccato composto su quanto la vasca ha chiaramente un impatto sul territorio, è inutile rascondersi perché non c'è anche senso dire che la vasca è comunque molto grande, 3 grammi da quasi 200.000 metri di acqua, però si stanno cercando, anche se stanno cercando, si è fatta una concentrazione preliminare e anche nei passaggi successivi si cercherà ulteriormente di migliorare, per fare in modo che sia una vasca coerente con il Barco che abbia anche delle funzioni ambientali e che soprattutto nei momenti in cui ci rispichiamo che verrà un anno in cui non ci servirà il vasco di protezione, possa essere utilizzata positivamente a 365 giorni dal Barco. Una cosa che chiediamo molto è che stiamo cercando di rispettare i tempi che abbiamo contodato con il governo, ma che soprattutto ci consentono di dire che riteremo delle esotazioni. In particolare la vasca di Senago che è la più importante del sistema, gli studi dell'Aico, dicono che delle ultime 17 esotazioni, la vasca di Senago che è del periodo 11, sta seguendo esattamente la tempistica indicata. Ovviamente non ci aiuterà quest'estate, non ci aiuterà neanche la prossima, però se non si parte non si arriva mai, che sono quasi tanti e aspettiamo una soluzione. Il piano ci è il corizzonte del tre anni che deve essere realizzato e se manteniamo questa tabella di marcia che avorge, mi sembra che ci siamo dentro, riusciamo a farla risultare. Allora, il tentativo che stiamo facendo è di agire a 360 gradi. C'eravamo letto qualche volta che bisognava andare a lavorare in un piano determinato, che come in realtà non è particolarmente subito, non ci dicevai bene, quest'estate che ha il 90% della capienza di andare di sotto, ci sembra una stica realistica. Comunque, lì talmente li stiamo facendo. Stiamo intervenendo un'altra cosa importante, il tema della progettazione anche rispetto al barco Nord per quanto riguarda le aree di via, di via Rezzo, a che si sta lavorando in quanto riguarda le aree di via Rezzo, in quanto riguarda le aree di via Rezzo. Sta andando avanti la progettazione delle masche, ma a giungo di questo anno è stata acquisita da tutti noi, dei progettisti, il fatto che non è la masca da sola la soluzione se non è variata da una serie di interventi che ci accompagnano all'uscita delle agenzie. Per una lezione di esterno compiendo tutte quattro i tempi concordati. Come consigliamo? Facciamo una presentazione complessiva del piano da parte del dialogo di sanitario di servizio del punto di servizio di servizio. Grazie bu funniest, parole èiamene. Grazie. 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 che si risponde, che non siano delle persone che mi trovano da indigni e da voce che parlano che sono stati fissati, che ovviamente si muove la valutazione del territorio, ma non si risponde in ogni senso acqua, abbastanza l'acqua, nonostante la valutazione del forzo d'acqua, perché chiaramente la localizzazione del territorio, ma sì che lo sviluppo delle pietre e le cittadinità di veramente scomplice. Allora, il bacione del seguito ha una seconda vista molto logico, è il punto di vista della battaglia, c'è un fatto, diciamo, un po' più creativo, che è il momento in termini delle parti di cittadino maderno, dove il suo carattere, il suo preudizio, viene abbastanza limitato, è chiaramente fortemente normalizzato, sono 412 milioni di malati per 5.000 milani, questo è un'area, come vi dicevo, che si può studiare senza non fare le conseguenze, perché chiaramente sono stati cambiamenti, problemi nel tempo, e non sono cambiamenti che risposte, tornando un po' in volto, vispecato della sofferenza idraulica. Ovviamente anche la qualità del piano è compromessa, è in strada per i modi dei vostri punti, quindi è un'area che si tratta, il verticolo che attraversa la nota studente, i contori, un ottenere sviluppo, ma anche di, che era una cosa che si tratta, insomma, non è semplice, studiato, non è semplice, individuare le posizioni di progetti. Abbiamo detto che, insomma, la segnalazione, l'ultima, l'ultimo, sui 100 anni, la probabilizzazione nasce a 5% in terra, in terra a terra, a terra o a terra, a terra, a terra. A vostra sinistra, vedete la potenza della mia, qua, ma c'è l'auto change, insomma, si sapeva a fatto, del settore allesimo, quindi. Quali effetti ha, queste probabilizzazioni? Sicuramente la corsa è in alta velocità, come la corsa e la corsa di rilascia di più. Questo è abbastanza intuitivo perché quando è stata campagna, la corsa che è tagliata in un vaso e non è scoppiata dal terreno, ma la forma d'avanti, il testo finisce nel corso d'acqua, però è scomodi, è una rammortica o un altro. L'impermeabilità, l'acqua, il risultato, nel sistema interagionato, con il tempo del volo consolato, e l'impermeabilità, lo chiudo da sera, è abbastanza repentino. Io ho avuto a luglio che ho assistito su un inganzamento del sistema interagionato, a fare un segnaro di oltre due metri, come l'acqua in zona, con una velocità impressionante. Il tipo che aveva avuto avanti a fare il proposito, perché aveva velocità quasi incontenente. Il nostro ha visto regolamenti in cui si è sistema di muturazione, il volo dell'acqua più arano, e ha avuto sostanzialmente dei due pesci collegati. Io, a più giorno fa, ho avuto l'occasione di guardare alcune fotografie aereo, fotografie, che aveva gli anni cinquanta, che riguardavano il fedeo di politico lasciato, e mi conosco qui per me di conoscere che, seppur di piccolo, avreste quanto la faccia del più difficile, nel senso che aveva la possibilità di divagare, c'erano con i titolotti, non confrontati come la superficie, a dire alcune... con i titolotti, però aveva questo tipo di... aveva questo tipo di morfologia, che è stato completamente spravolto, per tutta una delle di interventi autonomici. Allora, come vi dicevo, la sicurezza dell'ambica è stata studiata dall'organizzazione. L'organizzazione è un'agenzia interliggione, perché il tuo posto non è un intervento, che si fa qualcuno con un'organizzazione, perché facciamo che l'entica pianifica, che pianifica il territorio, che si fa la tutta la memoria padana, alcuni inizi di denaro, io voglio dire un'organizzazione del Ministero del Comunizio. Oggi dovete terminare, lo sentiamo, di diverse reatti che stabiliscono alcuni limiti di scasso all'interno di un scasso, per cui io voglio dire un'organizzazione a farlo, e poi c'è quello che dovrebbe essere un'organizzazione regionale, e allora ho già voluto un indirizzo nel punto di quanto riguarda il sete, con un manuzzo, a portata a portanza, cercando di portare avanti il concetto dell'imbarianza dinamica, che anche questa fibrologica, di variazionale, sostanzialmente che gli accumuli di pioggia, sono certi tipi che non devono, in un modo alterati, tutti i miei genitori, è un obiettivo molto difficile da raggiungere, quello che ho fatto è, ma è, per quanto riguarda la scienza, però bisogna trovare città. Quindi, certamente, le stradigie, diciamo, le più utili, che quindi, da quando dicevo, ovviamente, sono la soprenza, le stradigie, che avranno anche l'umatistica e gli aspetti ambientali. Ormai, in tutti i progetti, con i suoi ricorsi, diciamo, non i suoi ricorsi, che occorra, se vuoi si attacca, sono sempre accompagnati dall'attrazione di parte alimentare, cosa che magari non ha fatto, e non lo hanno fatto a cercare. Quindi, questo significa che i progetti devolveri i suoi rispondi, sono pazienti, sicuramente, che non sono le devoletà, perché il progetto non si capisce, sono pazienti, sicuramente, che non sono giudici del volume d'acqua da immagazzinare, se non posso, se non posso, se non posso, di scogliere, da mettere in un volume d'acqua, ma in un volume d'acqua, ma in un volume d'acqua, ma in un volume d'acqua, in un volume d'acqua, in questo senso, è importante, anche, coinvolgimento, dalla particolazione di tutti, perché si spera di mangiare di molto, come mi interesse. Con il Cione Roma, si è avvenuto già, già con un metodo progetto della vasca, della determinazione, del viaggio, che dovrebbe essere approvato, ha portato a parte di questo processo pratico, ha finito il progetto, tutti i contatori di interesse, ovviamente, e anche i piedi, devizionalmente i colori, è un processo, è un processo che, in qualche modo, allunga un po' i tempi, però, cerca di indicare, questi che sono, diciamo, i momenti di, con una posizione, su tanti temi, di cui conge il progetto. Allora, il contratto di fiume, invece, è un altro tipo di strumento, che è un'attività di cose, che non sempre, magari, è stato, è stato sfruttato, in quanto la, per me, se c'è un problema, di risorse finanziarie, che è il corso, che abbiamo, di risorse, quotidiane, un po'. E' un periodo, abbiamo un strumento, di grande potenziale, perché, è fatto tutto, tutto da tutti i punti, del racconto del steveco, da le province, dai campi, terriboriali, dall'acqua, dal grande fascino, l'aico, azzitutto, da tutti i fischi, fantastici, di tutti i mali, che sono, di sfruttati, come un'altra, del steveco, e di due, 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 non riguarda, solo i ragazzi, anche l'aspetto orientale, e di qualità delle azioni, quindi, in qualche modo, cerca di integrare, per questo momento, che già, a me, cercano di integrare, le tematiche, di qualità, e di pertinenza, in grado. Quindi, queste sono, le azioni, che portano, a me lo credo, che in parte, dalla parte, se vedo, che portano, anche con un atto di ruolo, quindi, in caso di stare, i capi, gli impianti, in risorse, le strategie, di miglioramento, nel caso di vaccino, definire e realizzare, gli interventi, in risorse, le migliorare, poi c'è il processo, di sottovacino, che potremmo essere, lo detto, con delle domande, la gestione, di risorse, per ragionare, che in qualche modo, si rilascia al tema, di interazione, la diffusione, condizione, delle informazioni, sul vaccino, che si è, in materia, un bando, che è conosciuto, il suo, diciamo, nel punto, e le trasportazioni, e poi la sensibilità, che si rilascia, è più importante, in questo punto, è più importante, che si rilascia, psicologicamente, e su un uomo. Quali sono gli interventi, che si può essere, sicuramente, con tenere, l'obiettivo, quello principale, è quello lì, è fare in modo, da mitigare, l'obiettivo, che si rilascia, la sicurezza assoluta, in un uomo che non esiste, però, si può incidere, significativamente, sulla, sulla, capitale fenomeno, in realizzate, anche per l'azione, e anche per l'azione, in un uomo, o dedicate, a rilasciutare, di un'autorose, che è un intervento, che è in atto, quindi, il rischio, della funzione, ai carri, attraversamenti, del fluido, e la valutazione, è un'attività, che è un'attività, che è un'attività, di un'attività, così, la disblocazione, degli interventi, da nord, verso tutto, vedete le quattro, aree di combinazione, che sono, S5, S3, S4, con questo il senato, e poi, gli interventi, sulle, sulle, scrive dei classi, sulla parte del nord, S9, S8, S7, che sono le aree, e le molenari, diciamo così, per un'azione, E' una volta di poloscoare dove la contaminazione viene lasciata lì verso l'acqua, chiaramente all'interno di un periodo definito. E guardiamo la rivoluzione di un intervento che io ho presentato dagli Assessori. Questo è un po' da pelle, perché io ho visto un programma, c'è le linguistiche che ci lasciano fino a 2017, che vogliono i programmi. Alcuno c'è un intervento di assessori, ma alcuni interventi sono veniziati, potete invece aspettare di essere finanziati nella loro normalità. Le altre transversioni sono soluzioni, tra i nostri anni fortemente normalizzati, che davvero indescrive, importanti nominati, e in caso di una rada di intero, le aree rossi. Un giardino di aree di contaminazione è abbastanza intuitivo. Forse veramente viene sottratto, ormai in modalità, viene sottratto una parte di gruppo, più fratelli, che arriverà in pratica, con questi dati che non sono in grado di contenerla, e viene poi rilasciato a fine rete, e rilasciare, allo stesso, si chiamano la lunga, che non manca, quindi anche cosa di vita. Quali sono i principi che dovrebbero essere assicurati? Ovviamente, la sicurezza è determinata. La puntualità, a questo punto, che è proprio la decisione, e anche, con la corretta della sorpresa, che consisterà, costante la manutenzione, sia ordinare che straordinare, tutti i giorni, meccanici, elettronicanici, che sembrano uguali. Il corretto di inserimento, è decisivo, perché qui c'è, il corretto di inserimento ambientale, che viene a portare con noi. il corretto di inserimento, e il rispetto, tra le tiglie delle tiglie, ma spesso di vedere, come vengono, attraverso il corso anticipato, e che mi raccena molto. La sicurezza ambientale, quindi, bisogna garantire, le misure di sicurezza, degli agli oggetti di intervento. Un controllo delle linguali per carenze, di questa parte, rispetto alla nostra spagna, di questa parte, questo è un tema, che mi ha la mia scantina, e che sapete tutti, che la parte, il territorio, diciamo, dell'area metropolitana, di Milano, si sta, sia a parte, quindi, ma, si sta adattando. E poi, la collaborazione, della condizione, di un'area monogamata, delle lingue di scienza, ad esempio, la posizione, dell'ordine, dei difficili, di menso, come gli eventi, post, apprezzamento. Questi sono, diciamo, gli interventi, sui quali, si sta conceduta, l'animo, dove, la relazione, che era, quella, la posizione, che è avanzata, ha già ottenuto, il territorio, quindi, già ottenuto, tra i fini della notazione, dell'impatto ambientale, e, quindi, ci siamo portati, a un'area monogamata, che si è avanzata, e poi, paravagare, il fatto. Le altre, tre, opere, di allenazione, sono invece, infatti, il progetto definitivo, in questo momento, è, che è specchio, di essere, che è, almeno, in più, c'è la, la rivoluzione, che, come dicevo, è un quartiere, che è nato. Quindi, l'argo, ci attiva, che, a decine, che, nell'attuale, il sistema di stabilizzazione del servo, era migliato, assieme al servo, tutti gli eventi di condizione, che si sono registrati, in particolare, per fare, come un gruppo, che avevo, il decreto, il decreto, il decreto, io, vi invito, l'attuale, perché, se, gli individui, si continuano, a, qualizzare, i numeri, che sono, la base, gli disturbi, degli disturbi, degli disturbi, che erano, di sanitario. Questo, è un esempio, diciamo, è un esempio, di, di carriere, di un'attuale, per poter essere, immandata. E, essendo in scavo, lo scavo anche, in cui arrivo, nel progetto, iniziale, dall'attuale, 17 anni, poi, vedete, il progetto, con la banda, si è deciso, di, portare, a 5, a 14, quindi, per mese, qui, spieghiamo, spieghiamo bene, quattro, che interessa. Sì, quattro, più veloce, però, sì, sì, molto, ok. Questo, poi, il senso, il poesergistico, della, al di là della, diciamo, che è sempre in un'immagine, qui, magari, però, sono da fornire, fornire, un'idea, di aree che, hanno, sicuramente, le mani, perché, in qualche modo, non si sa, se la non è la politica, dalle tecnologiche, se la non sta vanno, però, sono aree che, sono ribadate e vengono ribadate anche per pochi giorni, anche se gli eventi possono essere frequenti, ma nell'attività di 25 giorni partiamo in pochi giorni. Sono assolutamente infamibili e possono essere oggetto ambiti di forze, forse oggettuali per apprezzare questi dati, se potete rendere i tipi politicamente. Queste sono le aree polenari della parte dell'internoz, questo sporo molto velocemente, sono le prime progetti preliminari delle altre aree dell'internozio ambientale, con lo spazio della popolazione, iniziamo il prestato, Pavello, che è un'azienda significativa dopo Senato, e il fatto è quello di un'azienda che è sostanzialmente adiacente a Pagano. Chiaramente, vi dicevo prima, che il rispondo dell'ammigrazione è il fai passo alla vasta dell'azienda. Tant'è chiesto che lo sbagliamento dei finanziamenti impiaggia su questo posto di nostro, da una parte la reazione della determinazione e dall'altro, che potenzialmente mi chiamo meglio di un'età di buonissimo. Grazie. 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 di nuovo. Tutto la palazzola, dove c'è lo sformatore, per cui lo scenario che ci ha descritto Generale in Italia, con quelle zone, con le armi delle maschere, assorbono tappe di piena e ci portano quindi a zero tutta l'acqua che viene prodotta da palazzola in giù. Adesso qui vediamo invece che cosa succede da palazzola in giù, cioè nei nostri territori. E quindi la progettazione è poi in direzione di una vasta implementazione in uno spazio che andava ricercato da palazzola o paderno dove c'è lo sformatore e ha rimesso in tombina tua sotto del senso a confine comunale. E quindi abbiamo individuato questa soluzione che adesso ci registra. Grazie. 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 Il livello di massimo invaso è quota sopra le marze del 39, molto la roba del terreno 540. Per cui vedete il livello di massimo invaso che si può generare in termini della massa. Il livello di massimo invaso si può generare il livello di massimo invaso che si può generare in termini della massa. Il livello di massimo invaso si può generare il livello di massimo invaso. Il livello di massimo invaso si può generare il livello di massimo invaso. Il livello di massimo invaso si può generare il livello di massimo invaso. Il livello di massimo invaso si può generare il livello di massimo invaso. Il livello di massimo invaso si può generare il livello di massimo invaso. Il livello di massimo invaso si può generare il livello di massimo invaso. Il livello di massimo invaso si può generare il livello di massimo invaso. Il livello di massimo invaso si può generare il livello di massimo invaso. Il livello di massimo invaso si può generare il livello di massimo invaso. Abbiamo già visto con un'uso, a fondo bassa con la città in cemento, rimpito e metto con acqua rilevata da pozi. Come abbiamo già visto, dalla prima fase. C'erano dei postulaci. L'indichiamo sono punti. Il livello di massimo invaso si può generare il livello di massimo invaso. questa sperazione comunque periodicale, quindi, mentre che salite lo ascolta, qui siamo circa meno dopo, rispetto al terreno, il fondo vasca ha indicato il fondo 132.00, quindi ci fanno uscire meno note rispetto al 140.00, quindi per questa sezione vi ripetete, appunto, la bocca, la bocca, la bocca, la bocca, non andiamo a realizzare, diciamo, degli agimi subestiti, cioè fuori, perché non fanno anche degli agimi pericoli. Allora, risalendo, quindi, passando a voi, ho visto la parte di lato permanente, vedete nella sezione, abbiamo pensato anche di prevedere il percorso di mezza costa che ha due funzionalità contemporanei. Una è quella, ovviamente, di consettire di fruire le questioni di allenazione, in confondimento di non durante le metodi piena, come è ovvio, di consettire, con questi percorsi sicuramente domani, ovviamente di essere, di avvicinarsi alla superficie dell'arrivo permanente. Il secondo scopo è di consentire, al termine delle metodi piena, di consentire che si doca, di avvicinarsi, di entrare sul fondo dell'acqua, e quindi realizzare, effettivamente, la pulizia, la popolazione, il sedimento, ovviamente, la piena, o la cosa. Facendo la pulizia di cemento, invece, abbiamo scherato durante, dicevamo, i 300 giorni dell'anno, da un'acqua che non si vede, però la pulizia di cemento ha il vantaggio, secondo il punto di ragionamento che abbiamo fatto, per consentire, una volta svuotata, da un'acqua che non si vede, realizzata in pulizia, diciamo, per coppie, quindi, molto affinata. In modo tale, poi, per i metodi, per il modo di sapere, per cui, per la vasca, per metodi, per l'acqua, per avere l'acqua, subito, sull'initante sostanze, per la storia. Ci sono stati realizzati, per il fondo vasca, per consulenza costa, poi, nella zona centrale, abbiamo previsto, per scoprire, i maschi che, a scoprire, non ce ne dà, quindi, in caso di terreno, mentre l'ultima parte della vasca l'abbiamo, abbiamo riportizzata con un titolo superfacciato, in modo tale, se un fratto, che comunque, ha un spesso redale, che può essere anche, diciamo, riportizzato, comunque, in un secondo tempo, anche da solito, diciamo, che si possono impiantare, anche a gusti, o comunque, anche a territori, anche a sostanzialmente. Ovviamente, però, ma, che è, la linea, che è particiata, ma, è un coraggio costante, e, io, avete, non sto parlando, se ne dite un'inituzione sotto, ovviamente, da una possibilità, di essere sotto, ovviamente, che non vadano a, diciamo, il contatto con la palla, che, comunque, per i cittadini, come segnata qui, però, è almeno 17, che non metti, quindi, è abbondantemente sotto, a fondo, a sezione 9. Come pubblica, ho aprito l'assessore, ovviamente, in questa sezione, si viene anche i livelli di maghi, di invasio, che è al 139, quindi, i famosi, 8 metri atto, quindi, non è trovato, per confronto, a cui mi dicevo, il suo, 8 metri atto, il, 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 il manso, ok, questa, è, la sezione, in cui, non, la metà, la sezione, è, la sezione, io, ovviamente, non, se è possibile, più o meno, ovviamente, sia, sia, la logica, Segui un po' se ne fosse. Un'altra domanda. Quale è il compressivo pieno, c'è la pasta, non c'è la pasta? Allora, il volume d'acqua è 250.000 litri. Ma con il pressivo con il tuta pieno non c'è il basso? No, con il basso, giusto osservazione, è un dato che abbiamo detto, non è perfetto per noi, quindi quando c'è dentro l'acqua è circa 24.000 litri crudi. Non c'è che fatti la superficie del fondo è 24.000 litri crudi, ma non c'è 35.000 litri crudi. Allora, questa sezione l'abbiamo inserita per far vedere, cominciare a far vedere come dettagli, dove, in alcune aree, soprattutto nelle curve, abbiamo, diciamo, il ritardo, appunto, di piccole basso di decorazione, possiamo pensare a far vedere come dei substrati di aria, dove possono crescere, comunque, le scienze tipiche dell'acqua di produzione, come, diciamo, come, diciamo, aspetto, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Questa è un'altra sezione di corso, però, diciamo, ha conti più di tanti di quello che è fatto in altre condizioni dell'acqua, dove, ad esempio, nella sezione di corso di peggia, ad esempio, una colina, c'è per il corso di mezza corso, dove non serve, che costeggi tutto il terreno, che è un'altra cosa, però, come, più riferita a una nuova, a quello che è reale, a quella che è andata, decisamente, niente. Questo è un dettaglio di un'impatto di presa, sostanzialmente, dove, vedete, ora, qui è l'ingresso del sede, diciamo, da un'ottima, qui c'è l'obbligatore, ad esempio, da un'ottima di presa, adesso è così, da un'ottima di giudiziatore, quindi questo consente ancora la importanza di una lettera di nono, di un'ottima di giudiziatore che ci potete, come è stato rispondendo il problema, da rami, forse, sia altro elemento, diciamo, di gianchi, del lato di giudiziatore che potrebbe, a proseguire, e a fare l'intera di giudiziatore, ma anche di, a dare, a dare la vasta, e quindi, diciamo, da un effetto, diciamo, bellissimo, in un punto di vista di giudiziatore, che viene con questa protezione, a monte, che non tutte le vaste volano, non ce lo possono permettere, cioè, in questo posto, qui c'è la grinta, diciamo, che impedisce... ...e, praticamente, adesso non ci vedete, ma dietro qua, non è una vicina grinta, in questo caso. L'acqua, normalmente, va così? Sì. Quando deve entrare? Quando deve entrare, praticamente, allora, ci sono queste due patologie, ci sono questo, questo punto, che, diciamo, quando, ovviamente, ovviamente, il punto delle patologie sarà creato a livello, non c'è, diciamo, un ingresso della sua natura di piano, quindi queste patologie, vanno regolando, in questo punto di vista, quando deve entrare già... Cioè, quando il parfumo arriva in costanta, che è quasi sotto risultare? Ovviamente, queste patologie sezionano, no? Quasi, mentre, ovviamente, consentono alla propria, per cominciare a fare, diciamo, a entrare in camera della vasca. Questo è il testo che vedete, il fianco, è il famoso ampatto di scarico, quindi, vedete questo vanno, in cui ci sono, diciamo, le porte che serviranno a termine, dal vento di prima, svuotate, praticamente, praticamente dalla vasca. Al momento, potrei premiare questo depopio, che ha una potenza di circa 2 volte, di cui, secondo, il consenso, ovviamente, del 250.000, adesso, in circa, ma, tolma, il consenso, ovviamente, siamo quindi 24 ore, finita la risondazione, si riporta la vostra, e che si è preso. Manto del trattamento, ovviamente, quando arriva via, bisogna, per esempio, la mia c'è sopra, e la mia c'è sopra, come abbiamo detto qui, non solo di scelta, ma anche 4.000 difficili, ci sono, abbiamo due sistemi, ovviamente, in caso di emergenza, possiamo, ovviamente, di scelta le porte che sono utilizzate per lo svuotamento, quindi, nel giro di pochissime ore, 4, 5 ore, 6, al massimo, possiamo, possiamo svuotare, per l'evento, quindi, non tengo, questa è un punto attivo, che è un punto attivo, quindi, per l'evento, quindi, per l'evento, ci possiamo, diciamo, che si può svuotare, quando solo, quando serve. Sì, sì. Ok. Questa è la sezione, la sezione, come vedete, vista a fronte, per l'evento, per l'evento, il corone, fin da adesso, la, diciamo, la discesa, per esempio, per l'alimentazione, diciamo, della maschera, dove si è a corno, di 231, mentre questa è la parte di canale, che fosse, per l'esercizio, verso il risultato, per l'esercizio. Allora, questo, riportiamo, riportiamo un attimo, al tema, diciamo, come inserire, il mio prodotto, la base di organizzazione all'interno di un'area, diciamo, di proteggiata dal punto di vista ambientale. Quindi abbiamo equalizzato gli elementi A, come diciamo, il rapporto di una entità, ma il suo scopo, diciamo, di mitigazione, è una cosa stessa, diciamo, più positiva nella nostra politica. Altri elementi che abbiamo inserito per migliorare, ovviamente, questa meditazione sono delle zatte regaleggianti. Zatte regaleggianti possono avere diversi scopi. Se ne vedete, ovviamente, se grazie a questo, abbiamo messo con questa configurazione, ma è, diciamo, un tentativo che può essere, ovviamente, grafica, 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 grafica. Sì, queste zatte possono avere diversi finanziamenti. Possono avere, ovviamente, possono essere diversi. Possono, diciamo, consentire la crescita di piccoli, ovviamente, piante. Queste zatte saranno, ovviamente, legate al fondo della basca con una fuga. Quindi, potranno, diciamo, caldezzare, quando arriveranno piena, così, sembrano la piena, quindi non andranno in giro, rimarranno sempre l'intorno, non perdranno, diciamo. Sfattute dalla parte all'altra, nel caso di questo sistema, se per la masca non ci saranno tante, non ci sarà più, la corde, non ci sarà più. Grazie, grafica. Grazie. 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 con tante soluzioni, al di là dell'arco di ferro, diciamo, di... ...diciamo un modo subitale del piccolo e bianco, perché non è che possa... ...dei punti del cuore, addirittura, dei punti... ...punti... ...punti... ...di attrazione, chiaro, diciamo... ...a cui non c'è il più bosco, non è che... ...diciamo... ...tre con le caratteristiche... ...c'è il più bosco, non c'è l'altro... ...è in scelta, questo viene... ...diciamo... ...parla a lui dell'evento... ...i quanti appartegani... ...le hanno pensato... ...quisi sono degli esempi... ...un altro spesso... ...diciamo... 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 ...como esperienza agli smetti... ...possa vedere anche... ...una... 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 ...fosa sardiglia... ...come... ...are... ...e' un... ...e' un altro... ...udizio... ...ma te... ...e' un'altra... ...diciamo... ma non ci sono i suoi testi. Qui ritorniamo con il mio senso prima. Prima parlavo delle aree, passate il termine di macinamino, perché sono molto indicate, però in posizionanza che i tempi maggiori, quindi ho utilizzato il traccio sui pittori, diciamo, oagini di ricordazione, quindi vedete alcuni tempi atteggiati in altre situazioni simili. Ovviamente l'area stesso verrà, diciamo, nell'area stesso verrà per, diciamo, sostituire l'apertura che faranno comunque protezzate perché in quanti terza enti portano la superficie necessarie, per la base, se ne diciamo stare, verranno, ovviamente, sono già stati portati dei nuovi posti, ovviamente, la base è stata inserita e costeggiata con dei percorsi citropedonali, che consentono di garantire la continuità che c'è oggi, che è garantita oggi, soprattutto, legando a molti terrestri che sono stati fatti. che sono ricordi in questa zona, quindi consentiremo, diciamo, percorsi, percorsi... Diciamo qualcosa, poi viene messo a posto anche un po' in questo... Sì, sì, nessuno, sì. Ok, così, poi lasciamo spazio alle domande. Sì. Allora, va bene, questa è, molto velocemente, la moschema, la fratella, dove, al momento, sono stati utilizzati molti posti di scartazione dalla prima parte, quindi, poi, successivamente, dei posti virtuali, in realtà, in realtà, che è, alimentare, di dare potere al momento. Allora, veniamo a una... l'ultima, diciamo, ma, secondo me, l'ultima, dove, come diceva l'assessore, ovviamente, non si sapeva solo di fare, di fare la maschera, di sistemare, ovviamente, anche, le sfonde, delle persone, che sono tutti e, tutte queste offerte, dove, ovviamente, le varie piene, ovviamente, hanno, diciamo, proprio, piccoli, esparzamenti, piccoli, anche, più accepcioni, anche un'azomazione, quindi, ovviamente, se il sistema è un aglio, dovuto necessario, che, sono, che sono previste anche a una serie di arti, che è qui diciamo, di rappeggiare, cioè di iniziare in Corovo e Verde, dove l'obiettivo è appunto di qualificare la stessa fondazione del lavoro e le immediate vicinanze per consentire appunto anche di dare possibilità ai percorsi che già ci sono, però diciamo, altre discontinuità, e così 3.4, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 4, consente appunto di eliminare questi impedimenti che non consentono oggi di fare, diciamo, eliminare i capieti dal dono della base fino a dare la fattura, come dire. Ad esempio, per un esempio, l'area 1, ovviamente, oggi è occupata di fare con la gente che darà, ad esempio, un dismesse politicamente e diventerà dedicata a farlo, quindi, a prolungare la parte di altri soldi che sono previsti dei interventi puntuali. Gli altri impedimenti sono delle ipotesi che ovviamente stiamo occupando alla luce della maggiore, appunto, è compensata da quello che siamoondri, l'italiano, il trattamento, il problema, 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 Grazie. Avete sentito, si può riempire quando arriviamo proprio al pelo e poi è stato studiato un metodo per poterla pulire velocemente, diciamo in 24 ore, rimettere l'acqua sporca nel senso, per vedere la pulitura e rimettere l'acqua pulita. Allora, questo è un po' il progetto, io adesso lascerei lo spazio alle domande, raccogliamo un po' e poi insieme abbiamo risposto. Grazie, mi scuso con i tecnici. Prego. Allora, nel momento ho iscritto a parlare il consigliere La Terza, può raggiungerci, poi Grigocardi, Aminici, Gretti, Rossetti, signore dei seguiti, ma non so, non so. Allora, io come formazione, come formazione sono un ingegnere economico, come utilizzo automatico. E, dunque, ho visto che l'assessore Granelli, il tecnico di FNM, si sono affrettati a dirci quanto tempo si svuota la vasca. Però, ad esempio, non ce l'ho detto in quanto tempo questa vasca di Marconone si riempie. Ad esempio, se il tecnico e il mezzo dice quanti metri... Scusa però, facciamo così, come giustamente i tecnici devono seguire qui? Se avete delle cose a chiedere, chiedete dopo, perché devono seguire, non è per... Prego. No, 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 se mi dice quant'è la portata premista della piena, no? In 0,2 secondi. Alcuni anni non si riempie la vasca. No? Ve lo vuoi dire? Qual è la portata? Abbiamo 20... Abbiamo 40 metri al secondo e terza vista, è giusto? Quindi, la porta arriva. Allora, l'importo che bisogna fare, intanto, è, come ha stato detto, la vasca di Marconone di Seregio, con l'importo che ti va a prendere la palazzola, a 2.0. Cioè, non è da solo, non è l'unica vasca. Quindi è una vasca che non serve? No. No, no, non è così, abbiamo altro che sbagliato. Allora, abbiamo detto che vengono. Il piano è l'unico, come abbiamo descritto, cioè la parte di decorazione e la parte di vasca. Noi non guardiamo l'unica vasca. Noi vediamo le vasche a monte, che sono quelle che abbiamo visto, che alzerano la portata d'Ossia. Quindi, questa vasca prende solo l'acqua che si produce da palazzola dopo lo scolmato. Quindi, da sopra è 0. Allora, non è risposto. Allora, il vaccino piegerà sull'acqua, 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 sull'acqua e l'acqua, transitano, e adesso è di qua, qua la metà. Quindi, se è... Quindi, 4.500, 4.500, 4.500, 5.60. 4.500 però abbiamo aumentato il giorno. Poi, se sono 300.000, 6.60, non c'è, ci portiamo avanti, andiamo già a metà per un minuto. Quindi, mi dice quanto hai entrato. Allora, intanto, intanto, devo denunciare pubblicamente una mancanza assoluta di comunicazione dei dati, anche da parte di Aipo. Questo stesso incontro si è venuto, meno di un mese fa, anche con il Presidente del Parco Nord, insomma, con l'Assessore Granetti, dell'Assessore Granetti, che sono stati portati dati, l'Ing.Mille ha dato massima disponibilità, massima trasparenza per la consegna dei dati. Vi ho detto, guardi, che io sono riuscito a scaricare soltanto i dati di precipitazione dal 2002 in poi. Mi può dare tutto il resto di livelli? Perfetto. Questa sera l'ingegnere da Montagna mi ha fatto il favore che mi ha consegnato un ct. Ho visto il ct, mi sono portato un po' sta dietro il computer, ci sono gli impegni dal 2010 al 2012. E quindi, in realtà, non mi ha dato nessun dato. Ok, quindi non c'è proprio una sconcia, nessuna trasparenza. Comunque, delle ipotesi di riempimento di questa masca di Parco Nord potrebbero essere anche di 20, 45, 75 minuti. Sappiamo benissimo che l'ultima volta abbiamo avuto 12 ore di esondazione più di volta. Per cui, diciamo, l'influenza è rilevante. Comunque, io sono contento che questa sera qui è molto più calda perché le stesse slide che l'ingegnere da Montagna mi ha fatto vedere, mi ha fatto vedere anche l'ingegnere 1000 con qualche nota coreografica che mi ha fatto molto il pescadire. Non so se vi ricordate, nella slide l'ingegnere da Montagna, c'è l'Aimo certifica che il sistema di vasca garantisce l'esondazione 7,8,8. Io sono fermato lì. L'ingegnere 1000 è andato a ore, è andato anche a novembre, e mi ha fatto il pescadire. Perché? Il 16 novembre. È vero che abbiamo avuto una confuna esondazione eccezionale. e comunque AIPO non gli ha dato i dati di portata a parte il profilo idrografico di progetto non gli è stato consegnato ad oggi l'ho chiesto più di un mese fa e comunque chi è qui a riguarda ha visto l'esondazione e sa pure e questo l'hanno facendo che il 12 un mercoledì di cui tra l'altro con l'ingegnere Mille ci siamo visti in comune c'è stata un'altra esondazione e in quel lasso di tempo sarebbe stato troppo breve visto che ha continuato a provare per riuscire a scaricare i passi per cui possiamo certificare quanto vogliamo ma i dati stress che voi ci date ci dicono che il sistema non avrebbe capito ma non è questo il problema anzi questo è un'unica ha detto 24 ore per i cani a noi è possibile non solo più l'assessore Canetti ha detto questa vasca qui e quella del parco 9 lei si è distratta lei si è distratta 24 ore riguardano la vasca del parco 9 la vasca di Senato si ricorda quanto tempo ci vuole ha bisogno di due giorni e mezzo nelle condizioni ideali in quelle condizioni non sarebbe riuscita a scontarsi ok? almeno metà ok allora gli amministratori lo chiedono a fare quanto hanno degli investimenti allora prima ricordiamoci di qualsiasi intervento venga preso da oggi di voi i ragazzi più giovani qui sono quelli da Dicos ah no se vuole si può domandolo ok sei vetto quindi chissà cosa succederà nel futuro comunque per farla vedere uno deve anche ragionare in termini di spesa per cui sotto quest'ordina all'assessore Marami all'assessore del bilancio abbiamo chiesto i dati quanto negli ultimi 40 anni il comune ha effettivamente speso i dati del senso ora per esempio nella sala della montagna si preoccupava di se avagiavano vie eccetera i paesi fanno in modo di gestirsi le sondazioni ma io potrei non allagare mi guarda adesso non gestire non ti c'è ma se non guardi hanno una persona a fare cioè licenzia la mia vista sono state visto bisogna non mi stai tossioso finirà avanti allora facciamo la volta quindi io ho chiesto i dati i dati eccetera eccetera io mi metto dalla parte di un cittadino che so abita di quanta e le sondazioni le vedo per cui vorrei avere dei dati come vi ho detto i dati di misura quindi metto portate in percepitazione difficili a vedere i dati economici veri che non quelli ventilati sui giornali perché in generale montagna ci porta una slide che ci dice 70 milioni questi 70 milioni del 2010 con i dati costruiti in un dopo il 2000 invece quali sono un altro dato che porta di generale montagna dice la cittadino ha creato danni esponenziali ora se nel termine ingegneristico esponenziali no? è così è scritto esponenziale è scritto esponenziale quindi se è questo sappiamo anche benissimo che gli interventi diffusi sono quelli che garantiscono più stabilità anche alla soluzione di un po' di un po' e in ogni caso quindi per non parlare avanti visto che il 12 novembre 2012 c'è stato un contegno in regione nombardia in cui sono state prospettate varie soluzioni si dice e si lamenta che comunque la soluzione diciamo diffusa chiamiamola diffusa non è stata valutata quindi non c'è nessuna valutazione da parte dell'AIMO dell'implementazione di soluzioni poi bisogna allora i pepi verdi allargamenti separazione acqua e bianca separazione acqua e bianca acqua e nere allargamento delle tubature cittadine in modo da far rispettare quello che è di varianza di caos quindi mi piacerebbe vedere quanti sono i danni del mondo di Milano che effettivamente valiano quanto l'AIMO per il sistema di amministrazione pubblica sta decidendo di investire in questi appalti perché attenzione questi appalti in basche di laminazione hanno vantaggio individuano un unico appaltatore un grosso appalto invece gli interventi diffusi potrebbero aiutare anche l'economia e aiutare i piccoli imprenditori cose che invece in questo modo si sentono di dare proprio più gente allora anche questo deve togliere le toglie le amministrazioni per cui facciamo un esempio un progettista a partito su tutti un progettista di partibilità se non c'è un progetto adesso vengo ti tocca io penso di approfittare di un incontro per cercare di portare avanti quel piano razionale e indispensabile se i giochi non sono trovati se i giochi sono trovati allora è inutile che se le scelte sono attraverso possiamo consaltare allora quello è un piano di gioco mi pare che alcuni nostri diciamo discorsi abbiamo un po' un po' fatto a sentire prima l'intervento dell'assessore manano e lì c'è un po' se c'è esigenza di un piano che va da polvo delle masche ora però dobbiamo intenderci perché siamo vicini e nello stesso tempo distanti se pensiamo ad un piano così che dovrà venire ma che il fatto non uccide sul piano reale sul piano che c'è che avvia da ora e allora non ci costa andiamo ma noi che prima facciamo queste cose qui e poi tiriamo fuori il piano perché il piano ci deve spiegare che queste cose qui siano davvero indispensabili noi non lo sappiamo per sapere bisogna vedere perché ci fosse un calcolo di quanta acqua il calcolo vuol dire di quanta acqua si riversa su Milano quando c'era una risoluzione io questo ho ancora un dato che non ho mai sentito quando l'acqua effettivamente si è riversata su Milano di qual è l'entità sono troppa 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 però per sapere quanto bisogna far tenere non è bisogna sapere quanto se è interessata no e io ho perso la c'è struttura quindi 4 milioni 270 mila nei tre punti sono stati controllati sulla base di che cosa e noi diciamo applicando altri c'è un sistema che c'è un sistema o soluzione alternative quanta atto riuscire nel mondo a sprattenere a evitare che si diversi dai fiume e questo questo è il piano che dice perché il piano proprio non se ne occupa di sistemi aggiatativi chiaro ci sono qui e occorre sapere quali sono i mezzi a mio avviso le gare perché questi non sono fare grandi vaccini a ricorso delle gare di acqua di foglia 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 e in ogni caso quali sono i sistemi alternativi quanta acqua nel tempo hanno grandi si riesce a contenere con sistemi alternativi dopo di che abbiamo dato delle acque incidenti ma che o un dono o loro bisogna stoccare nelle vasche invece tutto questo ragionamento non c'è nel piano il piano parte con un'unica soluzione quella delle vasche unica e perciò riflettiva e perciò tra 10 20 30 50 anni avremo ancora le vasche perché noi non teniamo costruendo un che è con un piano non solida non stiamo costruendo un piano come dire una soluzione normale una soluzione normale che rispetta il territorio i cittadini quella l'agenica noi non stiamo facendo questa cosa qui l'agen resta siamo partiti con due vasche di laminazione allora noi ho invitato a sappiamo cosa cosa vuol dire è il piano che deve essere reimpostato perché deve essere sostenuto su altri principi i principi che noi indichiamo sono quelli che indica la legge sono quelli della separazione delle agropolite dalle agroescuote è il principio della invarianza idratica costruire un piano su queste basi e vedere hanno quella la risposta che questo piano può dare e qualora non bastasse allora come dire entrano in campo i rimedi eccezionali ma qui l'eccezione è diventata la norma anzi la norma non esiste proprio esiste solo l'eccezione ancora mi posso scoprire rifare il piano e quindi saper dire alle persone entro quanti anni le basche saranno superate chiuse e punta forza se ne chiuderà prima o una poi un'altra poi un'altra le diverse da questo si chiama un piano quello che c'è adesso non è un piano non è una cosa che non voglio nemmeno definire è una cosa che avrebbe potuto il mio riputino non avrebbe potuto tranquillamente dire no no hai un problema di 5 milioni di acqua che non sa dove mettere e beh fai 4 buchi e mettere dentro lì questo è tutto ma non so niente a serie noi dobbiamo rifare questo piano e allora nel rifare di anno ci lasciamo alle spalle la preistoria eh di queste basche di acqua di fogna a cielo aperto a rimosso delle comunità ce la lasciamo alle spalle questa preistoria e diciamo un'altra storia che è appunto quello di una politica che sappia farsi carico del problema della gestione di lealti che ora però adesso non c'è che vuol dire vuol dire che occorre tutto un'armamentarica eh di strumenti giuridici la regione deve fare le streggi importanti che si sia questa disciplina di lealti strumenti amministrativi che hanno i governi territori eccetera eccetera i regolamenti di lì tutta una serie di cose questo e quindi fra 15 anni fra 20 anni ma alla fine dovremo avere come dire una disciplina attenda un'amore attira un'intenna arrupmore e sono face a centenna frente un'intensiva Ma appunto mi chiedo, se fra vent'anni finalmente avremo, come dire, risolto il problema veramente. Ma questo è perché la mia preoccupazione, sapete quanti decine di anni ancora bisogna aspettare perché si faccia una politica di governo delle acque, considerando che le acque sono una risorsa e che diventano una natura, una disgrazia, nel momento in cui le acque facciamo anche pulite, per non essere la forza. Allora lì si vede un problema che è irrisolvibile. Noi dobbiamo evitare chi confonda di mettere assieme le acque sporche con le acque pulite. E poi dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo fare in modo che sul territorio ci sia appunto questa gestione reale, questo trattenimento, questa valorizzazione reale. No? E va bene, adesso un po' spiegare le acque. Parco Moro, finisco con Parco Moro. La vasca del Parco Moro, 250.000 metri cubi, crea un grande stile, un grande danno allo centro del Parco, eccetera, eccetera. Ma nello stesso tempo è, come diceva prima, assolutamente insufficiente. Basterebbe fare un altro semplice, mettiamo che piova, non so, in 5 ore faccia 10 cm di piove. Allora, sul territorio di 30 km di 40 km sono 3 milioni di cubi. 700.000 possono entrare, al massimo, nel fiume. Nel fiume. Allora, nel fiume, il resto... Vabbè, adesso non perdono le preferite. Noi ci troviamo di fronte, se ne è stata una situazione in cui possiamo, porno, altri mezzi, eh? Recuperare quelle regioni che non ci devono da vivere pubblicati. Nel giro di un anno, due anni, tre anni, in tempo per fare la vasca, eh? Noi riusciamo, sul territorio, in questi centri che non devono da 5 comuni, tra noi alcuni grandi, eccetera, sono in grado, e noi possiamo avviare qui, sul nostro territorio, il sinistro, una sperimentazione che ci porta in avanti, non che ci data punta indietro, che ci porta ad avere una gestione delle acque, i comuni che si mettono a posto, i cittadini che contribuiscono, che si responsabilizzano, diventano coscienti e partecipano attivamente. Insomma, possiamo fare oggi, qui, sul perlato, quello che è stato fatto, questo lo diceva il Presidente Manco, lo diceva il primo... Possiamo fare oggi, perlato, quello che è stato fatto questi anni fa con i rifiuti. Dalla tragedia, dalla situazione... Un disastro, eh? Il Passo Norco aveva le sue montagnette di rifiuti, le sue orrende dire, eh? Di rifiuti, sulle strade c'erano rifiuti, ma per tutto, eccetera, se abbiamo un nuovo corso, una nuova politica dei rifiuti. Vale a dire, perché c'è la differenzazione del vicino, del riuso, eccetera, eccetera, abbiamo iniziato una storia vicinta rispetto a una, come dire, barbarane. Questo lo possiamo fare adesso contro, ma, su questo territorio. Invece di fare la palastrica di l'abitazione di acqua di foglia, di rossi delle case, eccetera, noi possiamo cambiare una politica per il contenimento dell'acqua fiamana e siamo, vista la dimensione, su questa parte, vista la dimensione siamo in grado, in giro di due, tre anni, di avere lo stesso risultato, anzi, secondo me, il risultato di migliorare. Occorre la volontà politica, occorre anche una politica diversa. Grazie. 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 In Europa, mi ricorderò cosa diceva la terza, gli interventi diffusi sul territorio, i giardini della biologia, sono abbastanza problemi. Quindi se, come ha sovravetto l'assessore un'anima presentazione, il nostro orizzonte che riguarda per risolvere il problema anche di piazzale misteri, di Alca Grande, è quello dei tre anni. Io credo che in questi tre anni di cose se ne possano fare, diffuse sul territorio, per risolvere quel problema dei 250 mila dei piccoli che non mi sembra una cosa, una cosa per me. Seconda questione, ma se il terreno non c'è identificato, quello naturale, i giardini dei pazzi, è garanzia che è stradendo la piazzatura, è a capacità mondialmente di denazio, ridando dell'acqua a segniarsi direttamente, subito nel senso, perché impermeabilizzare una massa aerea di un pato? No, io ho visto che abbiamo quattro ettari, quattro ettari di dimensione, perché impermeabilizzare questa aerea del parco Nord che già svolge la trasmissione di trattene d'acqua? Si tenga comunque che un ettaro di terreno ha una capacità di dimensione elettrica di 3.750 metri pubblici, la superficie del parco Nord è almeno per difetto, 600 metri, quindi le trattiene negli anni 2.000 metri. Quindi, ripeto la domanda, perché prossimo nel parco? Il parco che ha costato risorse economiche non devono innanzitutto alcuni anni, in questi 40 anni di sua costruzione. Faccio una domanda, esistono organizzazioni da garantire? La zona Nord di Milano ha certamente tante caratteristiche, sicuramente non quella di aerea di essere già impermeabilizzata. La base del parco è più semplice da garantizzare perché accelta il corso del senso, non è detto che la soluzione più scontata e apparentemente meno costruita sia autoefficace e corretta. Apparentemente meno costruita, come uno stesso, che si fa solta contro la migliorazione. Ma se si considerano altri aspetti, come sarebbe giusto per l'interesse della cittadinanza, per l'ambiente, per il territorio, per il fondo, ma tanto che la paura principale dei disastri erologici, i conteggi puntano sostanzialmente con le iniziature. Se proprio fosse necessario, e io all'interno delle difficoltà credo che oggi sono poche fornite di ufficialmente dall'Avistro Cereo Comunale e dalla Stanza e degli altri che sono proponato per solo l'interesse, e proprio questa necessità non c'è il nostro sistema. Ultimissima questione, un paio di minuti. Da ottobre del 2014 ci sono passati 5 minuti, dei quali sono rilanzate solo notizie di stampa, senza che i cittadini dell'area interessata pensano con i luoghi su questa infusione. L'area interessata, con tutta l'attenzione, ripeto, che bisogna prestare agli amministrati del circolazio, di Piazza Mestria, di Piazza Mestria, di Piazza Mestria, di Piazza Mestria, di Parco Gemminaro, che bisogna affrontare avvenuto in maniera peggiore. Però l'area interessata non è solo un prato e esitiamo la Toranoia, è tutta la comunità del Parco Vorto, perché l'Alasica si costruirebbe sì un terribano amministrativo di un anno, ma finisce solo in tutte le finestre caseggiate in un altro comune. E anche i cittadini degli altri comuni, Cinesetto, Sesto, eccetera, subirebbero l'interno di un pezzo di parco compromesso e soltanto bene con il Piazza Mestria. Il parco è un futuro, non è nazionale nei segmenti amministrativi, soprattutto di Piazza Mestria, di Piazza Mestria, di Piazza Mestria, di Piazza Mestria. In una fase di cui al primo di generale è partita la legna politica, voglio dire, credo che questo aspetto, questo problema, o ha visto in questa dimensione, in questa dimensione, coinvolgendo anche tutti i distributori di questo parco, per vedere le questioni anche ambientali che non sono secondari con il Piazza Mestria, perché questo parco è una rivoluzione fondamentale dell'area di Piazza Mestria. È una questione che la qualità in cui dei cittadini partecipi, le mobilità tra l'altro di credo alla sua attenzione, e in effetti questi anni, e se le persone sono state molti con i circolari di ricordati nella pericuruza e nella pre выпutazione, sacrificare nel titolo Piazza Mestria di Piazza Mestria, di seguirete le compet реально se le persone fatte le persone che possono fare e 그러are. Grazie. 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 Sì, poi il mio vino e poi il mio vino. Io vorrei capire se la battaglia è il 9 Pasqua Cazzo Nonno o il 9 Pasqua Cazzo Nonno o il 9 Pasqua Cazzo Nonno. Perché se parte, questa volta qui, del 9 Pasqua Cazzo Nonno, ma perché il Senato dovrebbe dire sia il Pasqua Senaico? Perché il Paderno dovrebbe dire sia il Pasqua Paterno? Perché la tempura di dire sia il Pasqua Cazzo Nonno? Perché il Pasqua non è così. Se vi vuole stare in questi termini, scusate, se vi vuole stare in questi termini, vorrei capire poi che cosa succederà per noi. E' vero che stanno cominciando alcune cose. Allora, io credo che... Cerco di fare... Di stare in questi termini, ma direi di direi di direi di direi di direi di quanto... Allora, io credo che su una cosa è la... sicuramente va apposta questa domanda qui. Io concordo con quanto Caraminici ha 13.99. Sul Pasqua, vedo che ci sono di malizia e malizia. Cioè, queste città vengono fatte in termini di emergenza, emergenza. E nello stesso tempo, e qui si devono chiedere che ci deve essere un impegno da parte del Comune ma anche nei confronti di... Le aree di proprio già e nei confronti di ragione. Perché la porzione di comunicare le acque che finiscono all'interno, c'è sempre... E' stato accennato prima. Però non c'è stato un tratto come... Né se questo... Di separare le acque, anche se questo... Quando ci fanno le varianze da cacini, di caudone, che ogni quartiere... Ogni cacceggiato... Ogni... Ogni antelliale è il nostro terreno. Solo è proprio nel nostro spazio. Se... Ogni insegnante che per fare questa scuola poi mi rivolgore... Non so quanti anni... Non è vero, non è vero. Io vorrei vedere quanto tempo si vuole fare queste cose. Perché poi... La storia in vari comuni... Non bisogna intervenire queste cose. E' una questione da fare... E' una questione da fare. E' una questione da fare, sicuramente. Perché è giusto... Diminuire la quantità della portata del centro. Questo è fuori di ragione. E qui vorrei che... Ci fosse un impegno da parte del Comune... Da parte di questa amministrazione che dice... Noi ci impegniamo pochemente anni... Perché questo va bene. E' altre cose che stanno vedendo... E' il fatto... E' la decorazione del Nato. La decorazione del Nato. La decorazione del Nato significa... Andare a vedere con i soldi fiscali... E vorrei capire quali sono... Dicono la nostra festa appropriata... O di su e su e su e su e su e su... Già viene una risposta... Per fare in modo che... Il semelo... Se ci permette... Molto o meno il finanzo... Della tua... Anche se... Quindi... Non è una nota collettiva... Le aziende... Che prima scaricavano... Un proprio... Non chiuso... Però... Suona parte... E questa è una cosa... Un'altra cosa... Che... Vorrei... Cittare... E questa... Perché... Qui... Specialmente... Nel fatto di... Ad esempio... Noi sappiamo... Che... Degli anziati... Non riuscivano a uscire di casa... Perché... Tanto... C'era una macchina... C'era una macchina... Che... C'era una scultura... Di queste persone... Le cose... E anche... Per quanto riguarda... Il fatto che... Facchiamo delle tedenze... Anche le cose... Un produzione... E anche... La tecnologia... Dice... Ecco... Io credo che... Su queste questioni... Io credo ci devo intervenire... Le chiaramente le lasti... Devono non escire... Ma la questione... Che... Ha un termine... Perché... Non è una soluzione... Perché è vero... Che l'altra... e quindi io penso che, io vi voglierei dalla testa, ma che il problema delle esondazioni del centro sia finito in quanto non sono a più le azioni, non sarà così, perché noi ci troveremo ancora in fronte a delle esondazioni, poi ci troveremo ancora in fronte a delle esondazioni, per cui la questione è che nello stesso tempo vada avanti anche l'altra questione, quella delle varianze tra l'altro, e qui questa cosa lascia probabilmente e io mi sono andato pienamente, va, va, c'è una mistera, forza, grazie. L'ultima cosa è questa, perché sicuramente lo scavo per parte della scuola significa movimento della terra, di terra, noi sappiamo che inizioni cosa è successo per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda le scuole, sarebbe molto importante prestare una forte attenzione sulle aziende che si caricheranno, che si passano tutta l'altra cosa. Ecco, il padre Passo Stempe Torino, vi ricordo che, proprio sul tema protezione civile, abbiamo esagolato un nuovo piano di protezione civile, e perché presentiamo qui tre cittadini civile, e quindi arrivano proprio sulle quali cittadini. Faccio un'altra cosa, ma sono un cittadino della zona, che sono andata, che faccia un pericolo, consigliere che ci ha fatto, che faccia un pericolo, che faccia un pericolo, che faccia un pericolo. Ma sono andato a fare una cosa. Vorrei accennare al fatto, innanzitutto che, in intervento, diciamo, sottolineare questa cosa, tanti di quelli che abbiamo parlato fino ad adesso, lo dico senza fare critiche, però, ma anche di fatto, sono persone che possono, nel tempo che coinvolge, dare esortazioni. Come sono le cose, non si dà le spiegano, non si dà le spiegano, non si dà le spiegano da un po' delle siuocchialità. Il fatto è un mondo va ad un dato di seconda paga, ovviamente. Io vorrei sottolineare questa della nostra discussione, perché poi, quando si fa provare, la nostra discussione, è una dimensione della stanzialità, è una dimensione di nuovo senso. Io faccio ancora tutti i discorsi e penso che siamo in grado di confrontarsi sicuramente con tutti. Ma quando si parla con la problematica relativa a una vasta risoluzione, che anche l'assessore Marat ha sicuramente detto essere comunque importante rispetto al palco, rispetto alle case d'intorno, con i miati che ci sono, con le criticità. Con quattro quartieri, con persone che devono buttare, diciamo, tutto quello che erano nelle cantine, con commerciali che perdono migliaia di euro. E' un paragone. Io personalmente faccio questa. Il paragone è stato molto scusato. E' implicito, diciamo, dei discorsi che sono stati portati ad essere con solo io. Sì, ma sono difficili per niente. Noi diciamo perché si risolve il problema. No, 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 no. Il discorso è indirizzato perché così è vero che coraggio di dire che le soluzioni, devo dire, fin qui che ho ascoltato, varie, diverse dalle basi che sono state presentate fin qua, non sono chiare tanto quanto la chiarezza che si chiede rispetto ai progetti, che non li vanno. Nel senso che non funziona così, siamo in democrazia. Ognuno ascolta, ognuno ascolta l'altro. Dopodiché le domande che sono state fatte riceveranno risposte, è vero, però non è che quando vuoi certine dire qualcosa di diverso da che intervento si va. E per quanto riguarda... Ma non può criticare... Ma non può criticare i... i... gli interventi precedenti? Ma stanno... Ma stanno! E per la spiegazione che gli interventi degli altri ma però faccia il suo film di ritorno! Ma non faccia un po'. Io sono facendo il mio intervento. Perché quando lo so non eseriscono con una delle comuni è una cantina che è stato pienato il 2016 da parte del senso assicuro non essere tanto piacere, quindi diciamo sono particolarmente interessato a te, poi potremo risultare diciamo come spalle d'arte a tutti i suoi partiti, come interrotte, però il punto è che faccio un piano riferimento alla responsabilità e al consenso, e noi oggi vediamo da quattro anni situazioni in cui ci sono diversi quartieri che sono stremati dal punto di vista economico, questo è il punto dei partiti, le soluzioni che vengono costrette hanno, per quanto conosco, poi magari sono ignorante, non ho l'ossessione diciamo di essere la maniera della direzione scuola di nazionale, perché siamo tutta la scuola dell'Italia, quando si parla di queste cose, per quanto riguarda un ingegnere i capi, ma per quello che ho studiato, spettacolo di me, qual è stato di conto di una soluzione, con tempi certi, fatta, mi sembra, il punto di vista tecnico, bene, che risponde alle esigenze di cittadini stremati dal quattro anni di esotazione, noi siamo dicendo a questo, le soluzioni alternative che vengono proposte, come sanzibili, e visto che vengono notte, mi permettono di dire che Carlo l'ha copriato, ma fammi e salva, per quanto riguarda, ton pochino diismonore, suniamo via, quella che si può stre fonctionne per il centro, изнесme, secondo hell,undo secco, quindi per adesso, ony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Per quanto riguarda moltissime quello che viene, non possiamo andare insensore, perché con cento del centro del centro, se ipotesi non sanzibili, ma intenzione lo cap Quindi io spiego semplicemente questo, è la stessa chiarezza che viene chiesto nel corso di Milamere su costi, dentistiche, studi concertuali fatti da persone preparate, da chiesto alle persone che propongono scenari alternativi, io sono anche aperto a leggere, spavere, eccetera, ma se questi scenari, come i tecnici in mare, Giovole, di Aipo e il Fabio della Milanesi hanno sottolineato con risposte anche puntuali ai vari comitati, penso alla base del Senato che abbiamo fatto le risposte di Aipo adatto ai quali abbiamo fatto il nostro Senato, se non ci sono queste risposte i cittadini in questo quartiere non possono più accettare le fissime più lunghe, i cadetti che non sono utili al 100% delle esaltazioni, io lo dico, non c'ho una moda di chiarezza, questo è il punto. Allora, quando parlo di buon senso delle responsabilità, significa caricarsi di un tecnicio che per me può essere, per alcuni, tra cui è stata spiacevole, ma non sarà mai com'è adesso che, parliamo di una vasta vialinazione a cielo aperto, che poi può andare da gianne perché oggi siamo in presenza e la parliamo di una vasta vialinazione di questo genere. Ora, io penso che la strada che, diciamo, parliamo, e vedo poi i Fabianesiani che lo sperano sia quella corretta, che si vada avanti a scopare tutti, però che si vada avanti, perché se ricominciamo con il Pfizer, ritambiamo il piano di cui si discute dal 2007 e che finalmente oggi, diciamo, sta vedendo la luce, e ricominciamo tutta la parla, vuol dire qua che prima del 2025 ci ritroviamo ancora con le soluzioni senza uno straccio di soluzione, perché questa è la verità. Questa è la verità, che mi stupisce, più da un'opera che non vedevole, che chi ha ripestito anche ruoli, diciamo, pubblici e all'interno delle istituzioni, non si rende d'accordo che rimettere in gioco tutto, ma lo dico anche con un amicizio perché a te lo dico, diciamo, diciamo, uguale, ma io sono l'altro che ha presionato nel punto di vista che un interesse istituzione sia giusto per questo, che chi ha avuto i tempi di soluzione, non ci sa che ripartire da zero, significa annuncare, comandante, i tempi e rimettere in tutta la situazione, invadirà, non di un'amministrazione che ha coraggio la possibilità di avere il soldi di risolvere il problema, ma qui non ci seguono, ci perdono le situazioni, e prima volta che abbiamo fatto un fila, vi devo spiegare perché, domani si svegliano a che cominciamo a fare il lavoro che conosco. Grazie. 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 una soluzione medica in qualche tempo, perché comunque quella che è la maschera, diciamo, di nominazione al cielo aperto per chi è che, diciamo, le più volte, prova di prendere o il potigio di avere una maschera concentrata, o qualche maschera concentrata, quindi mi sembra molto semplice, cioè se uscendo da qua, perché non mi sembra che siamo in tanti, ma rispetto alla città, le più minanze, le più volte, siamo in quantità, perché se andassimo a chiedere a queste persone, se è meno che questa soluzione, ma in un punto di vista tecnico, se preferiscono avere un commento di gatto a sottocardo, un commento completamente, non voglio dire che hanno di sì, non risolvere con nessuno, io non so se sono risolvere con nessuno, non so se sono risolvere con nessuno, non so se sono risolvere con nessuno, ma in duemila dei duemila persone che abitano nel resto, avranno le cantine bagnate! No, no, no. Se noi facciamo il modo che l'acqua che già oggi è sotto le case, sotto i box di Bresto qua, e l'istri nel destro, invece la blocchiamo a monte e la blocchiamo qui, danno meno anche le case. Non è chiaro, io ho fatto anche aggiungerla, ho solo un aspetto tecnico, che io ho fatto una cosa tecnica, e diciamo che io ho capito che c'è un piccolo oggetto, nel senso di un piccolo oggetto tecnico, e poi ci sta facendo vedere la regola di utilizzo, quindi è stata progettata una macchina, poi si trova che si è abitata. Allora, prima la guida io ho percepito che questa macchina viene abitata e sono rimasto costruito, perché, tranne con le foglie, il problema delle acque inizinate del senso, sono rimasto subito del fatto che queste basche, io praticamente, e rendiamo solo quando l'acqua arriva, e non ci sentiamo, e mi rendiamo. Allora, io mi hanno chiesto se questa è la loro vita, e se parlano solo, ma perché io devo arrivare proprio che c'è l'acqua qui per aprire questa lasche, non posso utilizzarla qualche volta. Per più? Perché qui è una posta. Perché qui è una posta. E gli hanno porto posta e mi fa che la chiudizia. Perché non pare che il chiudizia. Siamo rimasti per i testi, non so dove è che mi ha abitato, però a casa mia siamo rimasti per i testi inesico le strade scordi. Non so, non so che è scorda posta. C'è il mondo che è ancora. Se è il tuo tuo tuo? Mi chiede? Grazie. Grazie. Grazie.